The Lancet, una delle riviste scientifiche più autorevoli del mondo a proposito dell'epidemia da Covid-19 in Lombardia, ha pubblicato un articolo dal titolo Recognizing Italy's Mistakes in the Public Health Response to Covid-19, in cui sostanzialmente affonda la gestione della pandemia da parte di Regione Lombardia. Uno dei passaggi più duri dell'articolo recita la decisione del Governo nazionale e regionale della Lombardia di non creare una cosiddetta zona rossa intorno ad Alzano Lombardo e Nembro, bloccando l'ingresso e l'uscita dei due comuni, quando a fine febbraio 2020 è stato scoperto il Covid-19 nella popolazione, sembra sia direttamente responsabile della diffusione dell'infezione ad altri comuni della provincia di Bergamo, in particolare nella Val Seriana, poi in tutta Europa. Gli autori dell'articolo tornano alla prima ondata, quel febbraio 2020, in cui tutto è iniziato. Lo spunto è la manifestazione che i familiari delle vittime del SARS-CoV-2 in Val Seriana hanno organizzato lo scorso 2 novembre a Roma per chiedere verità e chiarezza su quanto ha portato quasi due anni fa alla morte dei loro cari. Di qui un esame attento della gestione lombarda dalla prima ondata. I cittadini lombardi vennero messi di fronte all'orrore, si legge nella pubblicazione, ai propri affetti morti in casa senza cure e soli in ospedale, alla scarsità di ossigeno e bombole e alla confusione nell'identificare i corpi cremati. La risposta politica più criticata è quella che ha portato ai ritardi nel mettere in zona rossa i comuni di Alzano e Nembro. Dai due il virus si sarebbe poi propagato in tutto il resto d'Europa. Se il virus fosse stato contenuto a dovere, già in queste località adesso probabilmente si sarebbe parlato di un'altra storia della pandemia, almeno nel Bergamasco.